Loro sono i 250 volontari del Comitato Croce Rossa di San Donato di Piave. Gli conosciamo e li abbiamo visti nel nostro territorio tutelare e proteggere la salute e la vita attraverso il trasporto infermi le assistenze sanitarie e pillole di primo soccorso. Promuovono l'inclusione sociale dando supporto a bisogni primari attraverso il servizio Mensa e la produzione vestiario. Preparano la comunità e danno risposta ad emergenze e disastri. Si ispirano ai principi fondanti della Croce Rossa e cooperano con gli altri membri del movimento internazionale. Sostengono lo sviluppo di giovani e una cultura della cittadinanza attiva. Non sono supereroi, sono persone come noi che da marzo sono impegnati nell'emergenza Covid-19 con il tempo della gentilezza, con spesa domicilio, consegne a farmaci e dog sitter. Per fare tutto ciò e ancora molto di più nel nostro territorio hanno però bisogno del nostro abito. Sosteniamo Croce Rossa Italiana Comitato di San Donato di Piave. San Donato di Piave. San Donato di Piave.